Dichiaro aperta la votazione. Parigoni, Librandi, Bargero, Patriarca. Allora, ci siamo? Patriarca, dove sta? Ah, non riesce a votare ancora? Bene, ce l'ha fatta. Allora, dichiaro chiusa la votazione. Siamo all'articolo 4 e chiederei al relatore Mattiello di darmi il parere sul 4.1, che è l'unico emendamento che abbiamo. Prego. E favorevole, Presidente. La ringrazio. Sottosegretario. Sì, grazie, Presidente. Pareri conforme al relatore. Grazie. Va bene, allora, se non ci sono interventi sul 4.1, i pareri sono favorevoli. Dichiaro aperta la votazione. Allora, la situazione, mi pare, di Lello Richetti. Rivaudo.